Un corteo colorato e festante di figuranti giapponesi in kimono ha salutato i fiorentini turisti per le vie del centro storico fiorentino giovedì 8 maggio. Un modo insolito e divertente per invitare il pubblico al Wai Japan Film Festival, manifestazione nel cartellone della primavera di cinema orientale in programma al Cinema Odeon di Firenze fino all'11 maggio. Ad inaugurare il festival in prima serata è stato il film Rokugatsu do no San Shimai di Kiyoshi Sasabe, regista pluripremiato che nel suo cinema racconta dei problemi e delle miserie umane. Nel suo film ha raccontato di depressione, di Alzheimer, di senza tetto, di un universitario che deve lasciare gli studi a causa dei problemi economici e nel film presentato in anteprima giovedì 8 al Wai Japan Film Festival racconta di una piccola pasticceria nella città di Kagoshima, a gestione familiare, che rischia il fallimento a causa dell'apertura di un vicino centro commerciale, sullo sfondo di storie d'amore fallite e ritrovati affetti familiari. Gli volevo fare qualche domanda un po' sul Giappone di oggi, com'è la situazione? Ultimamente c'è una situazione abbastanza complicata, soprattutto c'è un grandissimo divario di reddito tra i ricchi e tra i poveri, sta aumentando sempre di più, ma allo stesso tempo adesso i politici stanno cercando di fare delle politiche volte a rimediare a questa situazione, però non è molto facile. L'economia giapponese giustamente si caratterizza anche per delle forti industrie, forti monopoli, al contrario dell'economia italiana dove prevale la piccola e media impresa, però lui invece racconta proprio di una piccola impresa familiare. Gli volevo chiedere il perché di questa fotografia della società giapponese, in realtà che spazio può avere un piccolo negozio, come lui ci racconta, perché ha fatto questo racconto? La situazione attuale è molto particolare, nel senso che ci sono moltissimi department store che vendono di tutto, dal gastronomico all'abbigliamento e quindi moltissime piccole imprese stanno soffrendo di questa situazione. Lui voleva porre un l'accento, l'attenzione su la situazione di una piccola impresa che cerca di reagire a questa situazione economica molto difficile. Lui fra l'altro ha parlato anche spesso di problemi delle famiglie, della malattia e in qualche modo ho letto anche delle dichiarazioni che lui conosce il cinema italiano, affonda anche un po' le radici, né un cinema neorealistico, anche un po' alla lontana il suo cinema? Lui è molto appassionato del punto di cinema italiano, non cerca di copiare ovviamente i temi, però sin da piccolo è sempre stato un appassionato dei grandi classici italiani e ha fatto 13 film di cui l'80% parlano della famiglia, proprio come questi grandi autori italiani, quindi è molto legato a questo tema. Come potrebbe descrivere questo suo film che inaugura il Wai Japan Film Fest e qual è il messaggio che alla fine vuole dare al pubblico? Il messaggio principale è quello del cercare di superare le difficoltà piccole di tutti i giorni, della quotidianità, in particolar modo legato all'impresa ma anche legato alla famiglia. Quindi a differenza della cultura italiana, la cultura giapponese difficilmente riesce a essere sincera e schietta anche semplicemente per dire un grazie. Quindi come stimolo principale nei confronti delle telespettatori è proprio quello di dire domani mi alzo e cerco di fare le cose meglio rispetto ad oggi. Nel film di apertura al Wai Japan Film Festival abbiamo ospite qui l'attore principale che fa il protagonista di questa famiglia che è in difficoltà. Abbiamo sentito che il ruolo delle donne è quello più importante. Invece il suo che personaggio è? Il film è ambientato a Kagoshima e anche lui è di Kagoshima quindi conosce molto bene la situazione sociale ed è una situazione in cui in realtà gli uomini sono molto forti e le donne tendono a volte anche a camminare tre passi indietro rispetto all'uomo. Kagoshima è anche famosa per essere una città che sono provenienti da Kagoshima molti dei leader giapponesi che hanno fatto la rivoluzione in Giappone durante l'epoca Meiji quindi la figura dell'uomo è molto forte. Soltanto che le donne di Kagoshima non si ritengono inferiori né riconoscono questa particolarità in questa situazione sociale. Ha sottolineato che appunto si dice che le donne tengono sempre su un piedistallo gli uomini ma allo stesso tempo è come se loro li manovrassero. Quindi sono molto bravo a testere queste trame familiari e di relazioni per far credere all'uomo di essere forte e di valere più della donna mentre invece in realtà non lo è. Questo avviene tutto il mondo, diglielo. Perché era così importante anche per lui girare a Kagoshima? Kagoshima e Napoli sono due città gemellate quindi per lui ha sempre avuto un'idea dell'Italia vicina a lui la sua infanzia, la sua esistenza. Vorrebbe dire al pubblico italiano di vedersi lo spettacolo e di goderselo e probabilmente riconosceranno alcune di queste similitudini che anche l'attore sente. La carrellata dei film giapponesi all'Odeon prosegue con molte sorprese tra cui il film The Great Passage che ha rappresentato il Giappone agli Oscar 2014 e Lupin the Third vs Detective Conan film d'animazione che fa incontrare due importanti personaggi dei fumetti Made in Japan.